segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te le dicevo della camera ardente dei funerali tutto succede in lombardia e più precisamente a milano e le volevo chiedere qual è cosa significava per silvio berlusconi in milano cosa significava la lombardia beh milano è stata la sua città la sua patria il luogo a cui ha voluto più bene in cui si è svolta la maggior parte della sua attività certo poi berlusconi è diventato presto un personaggio nazionale internazionale tuttavia io credo che sia giusto celebrare i suoi funerali a milano perché milano è la città che gli è rimasta nel cuore non me ne abbiano male i romani non me ne abbiano male le istituzioni romane il senato dovrà trovare il modo per rendergli omaggio perché è stato senatore stato presidente del consiglio tuttora è la persona che ha per più giorni ha ricoperto la carica di presidente del consiglio superando tutti gli altri dalle grandi figure come De Gasperi a quelle più recenti quindi sono contento di che potremo salutarlo a milano se ci sarà la camera ardente benvenga se no credo che riempiremo non solo il duomo ma anche piazza duomo perché berlusconi continua ad essere voluto bene da tanti senta formigoni mi dice a suo giudizio nella parabola politica di berlusconi qual è l'evento più felice qual è l'evento più drammatico l'evento più felice è stata la sua entrata in politica la discesa in campo nel 94 è stata la discesa in campo nel 94 ha inventato un partito in poche settimane ha trionfato ed è diventato presidente del consiglio senza aver percorso nessuna delle tappe intermedie consiglieri comunali regionale provinciale quello è stato il trionfo di un personaggio nuovo e di un modo di fare politica nuova quello è stato veramente il trionfo di berlusconi dal punto di vista politico perché poi ha avuto dei trionfi dal punto di vista imprenditoriale dal punto di vista sportivo e sempre politicamente il momento più drammatico il momento più drammatico è stato quando è stato costretto a lasciare palazzo chigi in una triste giornata buia in cui fu cacciato a furor di popolo non da un voto di sfiducia del parlamento che non arrivò ma dalla rivolta della piazza questo non fu un avvenimento democratico anche se fu lui a decidere di rimettersi perché non volle sfidare l'opinione pubblica ma che non ci fosse stato un voto di sfiducia da parte del parlamento del 2011 dell'arrivo di monti stiamo parlando del 2011 esattamente stiamo parlando del 2011 quando dovette lasciare la carica di presidente del consiglio a cui era stato eletto con il trionfo del 2008 perché il 2008 fu il massimo dei risultati politici della casa della libertà e della stessa forza quindi quello a suo giudizio è il momento più drammatico non è quando decade da senatore non è il conflitto con la magistratura no io credo di no anche quelli furono momenti terribili per lui dolorosi però in quei momenti combattè mentre io che lo vidi nelle ore nei momenti in cui decideva di dimettersi di lasciare lo vidi triste lo vidi sfiduciato lo vidi come se avesse abbandonato quella sua tempra di lottatore che lo aveva sempre distinto di fronte a tutti quindi io ritengo altri possono pensare che fosse quello il momento più doloroso per lui 2011 decide per lusconi di lasciare dice formigone le condizioni erano tali per cui lui sente di non poter fare altrimenti non è andata proprio così non è stata neanche solo la piazza lì c'era un paese